a torniamo seri dopo l'omaggio a faraoni ragazzi ciao a tutti e bentornati giornata goduriosa the day after sono in veste vintage oggi perché ragazzi mi è arrivata della bella merce da copa football vedete anche sta felpa questa lo userò ovviamente per il prossimo inverno adesso ormai è andata felpa ad allenamento come potete vedere la roba è ufficiale originale roba vintage che è stata è un rivenditore copa football vende anche un sacco di altre magliette t-shirt casual per uscire in giro a tema calcistico ve lo consiglio perché sono una figata una figata e le vedrete anche nei miei video quando farò i miei video mi vedrete con queste magliette qua ora queste sono della juve e le userò tantissimo però vedrete più avanti anche le altre quindi mi raccomando fate un salto sullo store merita veramente tanto mi raccomando ora prima di iniziare scaricate anche la puan football e così si rimane aggiornati perché queste saranno ore caldissime legate alla futuro dell'allenatore pirlo rimarrà o meno sono queste le domande che dobbiamo farci in questo momento perché ormai la qualificazione in champions ce l'abbiamo e questo è assodato ora parliamo di ieri di tutto ciò che è successo ieri come ho affrontato io la partita con quale spirito l'ho affrontata l'ho affrontata con lo spirito che se anche se si vinceva c'era il rischio gigante di andare in europa league ed ero già pronto al peggio quindi quando si è pronti al peggio tutto ciò che arriva insomma ce lo si gode in un'altra maniera differente e quindi ero bello carico bello caldo devo dire che ho fatto fatica a prendere sonno ieri notte perché insomma ragazzi è stata una giornata dal punto di vista calcistico bellissima per i juventini ma una tragedia per i tifosi napoletani parliamo già dell'idea che c'è sul passaggio alla champions della juventus sulla qualificazione perché tanti dicono la juve non lo meritava questa cosa però ragazzi inflazionata da perché perché nelle aspettative della gente c'era una juventus che doveva competere per lo scudetto è a deluso e quando è una squadra delude si tende a punirla oltremodo perché il napoli non è che abbia fatto tutto sto campionato spettacolare i punti lo dicono non lo ha fatto nemmeno la juve la juve insomma ha fatto un punto in più il milan ha avuto tanti bei momenti ma altri momenti a singhiozzo e ha meritato il secondo posto l'atalanta paga sempre l'inizio di campionato andato così così è però insomma la qualifica si è delineata in questo modo secondo posto il milan terzo l'atalanta quarta la juventus e quinto il napoli ora nella percezione del tifoso capisco che la juve non meriti perché ha deluso ma solo per questo motivo perché altrimenti ragazzi la corsa al campionato è punto a punto dal momento in cui fai meno punti di un'altra non è che l'altra ha meritato meno di te è che nella percezione così quindi ne prendiamo atto e sti cazzi sono contento così alla fine che la juventus sia passata in champions league e per quanto riguarda la partita di ieri nelle ultime uscite visto una juve determinata dal punto di vista mentale ieri anche tatticamente si è vista qualcosa e mi fa estremamente piacere qualcuno ha interpretato male le mie parole su ronaldo ronaldo per me è indiscutibile è un valore aggiunto però è vero che secondo me quando non c'è leva tante catene a diversi giocatori che per prima cosa non fanno altro che alzare la testa e cercare cr7 invece in questo modo sono sentiti secondo me più liberi di fare quel che volevano giocare a briglia sciolta e hanno reso meglio loro individualmente ma anche a livello di collettivo detto questo io mi chiedo se sia possibile inserire ronaldo in una logica di gioco come questa che vi ho evidenziato e come quella che evidenziato ieri la juventus stessa ovvero una logica di collettivo e questa è la domanda vera che dobbiamo porci sul futuro di ronaldo ronaldo rimarrà io credo di sì difficilmente si andrà ad una recessione consensuale perché la minusvalenza sarebbe troppo imponente per la juventus secondariamente non credo che arrivino delle offerte a meno che non ci sia qualche presidente che per spirito di mecenatismo ovvero non ci guadagno una mazza ma mi prendo ronaldo perché voglio vederlo alla mia squadra voglio avere questo sfizio qua allora sì è possibile ma non credo che di questi tempi con l'emergenza covid in corso dal punto di vista economico insomma colpito tutti tutti senza guardare in faccia nessuno non credo che ci sia un folle imprenditore che arrivi a tanto ma insomma il calcio è strano il mondo è strano e dobbiamo mettere in conto anche questa possibilità seppur remota ora per quanto riguarda invece pirlo io ve l'ho detto la mia ragazza a me pirlo non convince ancora oggi non convince non farò le battaglie pirlo out eccetera perché non me ne importa nulla perché ripeto io lo cacerei avendo i soli miei elementi a disposizione lo cacerei pirlo e prenderei un'altra lena 3 ma è una mia visione ve l'ho detto e rispetto anche chi mi dice no pirlo ha portato a casa due sì però io mi chiedo dal punto di vista tattico cosa ci portiamo l'anno prossimo quest'ultima settimana a mio parere per valutare una stagione ecco la si valuta da settembre in poi non solo per i titoli vinti e non per come è migliorata nell'ultima settimana non può essere questo il metro di giudizio per nove mesi di operato di lavoro cioè mi state capendo va fatto un'analisi un po più a fondo e anche di previsione ovvero che cosa sarà la juventus dell'anno prossimo a compirlo come giocherà quali saranno le peculiarità quale sarà l'identità marcata che quest'anno non si è vista queste sono domande a cui difficilmente sappiamo rispondere poi il rapporto coi giocatori e il rapporto nello sbagliato io mi sembra sanissimo mi sembra veramente molto sano molto saldo ok però dal punto di vista tattico io delle perplessità enormi 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 secondo me si andrà verso lì conferma ultimamente mi sta puzzando sta roba qua con la qualificazione in champions e con la vittoria della coppa italia male in questo caso male perché se questa erano due insomma erano i due parametri per far rientrare l'emergenza allenatore è male male perché questo non è programmare a mio parere e lo dico veramente in maniera molto molto tranquilla ora se la juve ha veramente contattato diversi allenatori nel momento di crisi pirlo invece poi viene riconfermato una cosa a me non piace non piace perché quell'emergenza secondo me si potrà riproporre l'anno prossimo e con dimensioni di portata maggiore quindi attenzione a questa cosa qua bisogna stare molto cauti e comunque io ragazzi ripeto non farò nessuna battaglia pirlo auto non sclererò non andrò mai alla continassa a protestare come dicono e mi invitano tanti utenti vai tu ma cosa vado sono anche ridicolo con tutti i problemi che ci sono in quest'italia andrei a protestare per un gioco che il calcio mi pare la cosa veramente meno utile in questo momento pensata qui a quelle povere famiglie che sono morte la ecco nella nella funivia quelle sono i veri veri fatti drammatici non mi pare il caso di sollevare casini per un gioco per cui vi dico aspettiamo e vediamo che cosa succederà poi contesteremo o meno ragazzi è un gioco è sempre un gioco il calcio è ci si diverte mi raccomando va preso con quello spirito e vedremo quali saranno gli sviluppi insomma lato juventus alla continassa c'era omeo quindi ci si aspetta qualche movimento vedremo vedremo a mio parere succederà ben poco oggi succederà molto molto poco ditemi la vostra sotto nei commenti iscrivetevi al canale e sempre 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 fino alla fine forza iu ragazzi